Tiramisù con Specialty Coffee. Gli ingredienti per questa ricetta sono crema al mascarpone con beringa italiana e il nostro cremoso al savoiardo realizzato con lo Specialty Coffee, cacao. Il procedimento per questa ricetta è molto semplice. Prendiamo un piatto fondo, alla base inseriamo della crema al mascarpone, andiamo poi a creare un altro strato con il nostro cremoso al savoiardo, eccolo qua, con un colino a maglia fine andiamo a sporcare con un po' di cacao, facciamo attenzione a non metterne troppo. Procediamo poi con l'ultimo strato dove andiamo ad applicare 7 spuntoni sulla superficie e per finire ancora una spolverata di cacao. Ed ecco qua che in pochissime semplici mosse anche il nostro tiramisù è terminato.